Mister Savino Ianni Rubberto, pronto ad una nuova avventura sulla panchina del Boiano. Avete chiuso l'ultimo anno in crescendo, ripartendo dalle sette vittorie di fila dell'ultimo anno. Dove si potrà arrivare? Ma sì, abbiamo chiuso un'ottima stagione, quella è l'anno scorso e ci ha portato sicuramente tante soddisfazioni. Un campionato che va adesso archiviato, cercare di ripartire da quella spinta però sarà sicuramente una nuova stagione con tante squadre che si stanno attrezzando per fare un buon campionato e spero che tra questi ci saremo anche noi. Vedremo dove arriveremo, non lo so, questo ce lo dirà il campo, però abbiamo tanta voglia di fare bene e cercare di migliorarci sempre di più. Per quanto concerne l'organico siete ripartiti dalle conferme, ce ne sono state di importanti, per nuovi innesti cosa state cercando e in quale ruolo? Sì, sono contento del lavoro fatto dalla società, la mia priorità era riconfermare il gruppo che tanto mi ha dato l'anno scorso, quindi ripartire da pilastri come il nostro capitano, Antonio Mauriello, Sebastiano Sabatino, Stefano Tasillo, Ciccio Perrella, giocatori che per noi sono fondamentali, sono ragazzi di Boiano che faranno sicuramente da guida ai giovani e a nuovi arrivi. Che cosa stiamo cercando? Vediamo, vediamo il mercato che cosa ci prospetta. Sicuramente cerchiamo ragazzi motivati, cerchiamo gente che voglia venire a mettersi in discussione, perché ripeto, l'obiettivo è quello di fare meglio rispetto alla scorsa stagione, quindi vediamo, vedremo in questo mese che possibilità ci dare il mercato. Per quanto riguarda i giovani, avete da difendere anche il titolo Juniores, un'ulteriore ciliegina sulla torta dell'ultimo campionato, anche da lì si potrà attingere. Sì, sicuramente, oltre a quel bellissimo sesto posto, quello della Juniores è stata sicuramente la soddisfazione più grande. La grande soddisfazione è che quest'anno diversi settori giovanili, anche di fuori regione, stanno cercando una collaborazione con noi, segno che sia noi come staff tecnico, sia la società, lavoriamo bene con i ragazzi, lavoriamo bene con i giovani e questa è una cosa che ci soddisfa tanto, perché vuol dire che il giovane ci vede come prospettiva di crescita ed è una cosa che sicuramente porteremo avanti, con la speranza che il nostro settore giovanile cresca il prima possibile per poter essere un serbatoio importante per la prima squadra. Preparazione, ci state lavorando, come si svolgerà? Siamo pronti, partiremo il 7 agosto, partiremo a Boiano con qualche giornata in montagna, saremo a casa nostra e è già tutto pronto dal punto di vista logistico, dal punto di vista del materiale, da questo punto di vista la società non mi ha mai fatto mancare niente e vedremo, c'è da lavorare quest'anno, mi aspetto un campionato molto equilibrato, secondo me sarà molto difficile e speriamo di riuscire a recitare un buon ruolo. Playoff è solo un sogno oppure è un obiettivo raggiungibile? Sicuramente ci lavoreremo, ci alleniamo, lavoriamo per quello, ripeto sono contento del lavoro che sta facendo la società, poi è troppo facile fare proclami davanti alle camere, alla fine del campo quello che dirà sia il Boiano sia le altre squadre quale obiettivo possono raggiungere. Noi cercheremo di lavorare con serietà come abbiamo fatto l'anno scorso, poi vedremo strada facendo quale sarà il nostro valore.